Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritornati su Fortnite con una nuova challenge in cui posso utilizzare solo le armi degli scagnozzi, degli NPC e dei boss ma ad una sola condizione e la condizione è la seguente, posso utilizzare solo le armi che droppano nel momento in cui li uccido quindi non posso per esempio andare da un NPC e comprargli un'arma quindi io atterro, cerco almeno un'arma per uccidere il primo o il secondo scagnozzo da cui rubare appunto le armi e da lì posso utilizzare solo quelle e tutte le altre che ottengo uccidendo i vari NPC, boss e scagnozzi ho già pensato ragazzi ad un giro da fare da un boss specifico davvero incredibile penso mi possa permettere di ottenere un loot incredibile prima di continuare con la challenge però vi volevo ricordare che questo oggi alle 15 terminerà questo conto alla rovescia che adesso vedete mancano ancora un po' più di ore perché ovviamente sto registrando un po' prima rispetto a quando esce il video effettivamente arriverà dunque il mini pass battaglia delle tartarughe ninja, le armi mitiche delle tartarughe ninja e tutto ciò che ne consegue di cui abbiamo già parlato nella GG News di martedì e anche nella GG News di mercoledì quindi vi aspetto con tanti altri bei contenuti già oggi eh, già nel tardo pomeriggio potrebbero uscire altri video inerenti appunto a queste grandi novità e ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto grande tutto attaccando ai negozi oggetti di Fortnite, mi raccomando ragazzi è davvero fondamentale per supportarmi quindi controllate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYT tutto grande e tutto attaccato anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo grazie a vero di cuore a chi lo farà è davvero fondamentale per supportarmi iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto lasciando un bel mi piace per supportare le challenge e consigliarvene altre da fare nei commenti ora vi lascio ai game, buona visione ah sì, e ovviamente come al solito che sto facendo in queste challenge parto da solo versus squad poi se perdo vado in trio, se perdo ancora vado in duo e altrimenti giocherò in singolo se dovessi perdere pure quella partita, amen ok ragazzi, per la mega sfida di oggi io punto ad andare a Tana stracotante per due motivi sostanzialmente, diciamo tre il primo è che la parte iniziale, diciamo l'entrata a Tana ha due o tre scagnozzi solitamente e non ci va mai nessuno quindi io potrei prendere immediatamente un'arma al volo per ucciderli prendere le loro armi e iniziare così immediatamente la challenge poi ovviamente un altro motivo è che c'è boss Oscar che c'ha il pompa mitico fortissimo per le no build perché è quello che spamma ma soprattutto poi posso andare a nord dove c'è proprio Snake, Solid Snake e questa cosa mi permetterà di ucciderlo e di avere un cecchino perché io senza Solid Snake non avrei altri NPC, altri boss, altri scagnozzi che possano appunto avere il cecchino e per me raga in queste challenge è fondamentale soprattutto adesso che siamo in solo versus squad spero sia tutto chiaro, spero di riuscirci soprattutto che qua raga io all'ordine del giorno sto cambiando i tasti al mio gameplay e non trovo armi in realtà quindi tutto quello che vi ho detto fino adesso era una menzogna non ci sono armi ok, perfetto no, bro, stati buono ok, mi dai il pump che è quello a colpo singolo che non mi fa impazzire per le no build però ovviamente quello che troviamo ce lo facciamo andare bene per ora, per ora, per ora i bunkati li me li prendo tutta questa roba qui ovviamente non la posso utilizzare ma luto anche semplicemente per avere i colpi raga banalmente detto questo io direi di shoppare immediatamente due shieldoni non esageriamo mi faccio due bacche, uno shieldone e l'altro me lo tengo allora, avevo sentito deltaplani ma a quanto pare non sono venuti qui da Oscar io sinceramente un altro paio di scagnozzi li ucciderei perché questo ha l'assalto che mi piace di più tolgo le granate anche perché in realtà raga le granate le ho prese ma non le potevo utilizzare perché le ho lootate da una cesta se non sbaglio oh oh oh, c'ha il pump spammone che per adesso, e se comunque non dovessi riuscire ad uccidere Oscar lo preferisco, ripeto, in no build ovviamente ragazzi nel momento in cui lootiamo gente a terra io praticamente non posso prendere nulla tranne se vedo che hanno magari un'arma mitica cioè se hanno un'arma mitica che sia di un boss io ovviamente ragazzi in quel caso posso prenderla perché sappiamo per certo che è un'arma di un boss allora io ucciderei per prima cosa Oscar anche se adesso ho le armi scariche quindi ricaricherei un attimino le armette buon in attimo solid è in safe per ora sì ma in realtà anche se non dovesse essere in safe va bene perché me lo uccidono io vedo il cecchino lì a terra ed è per forza il suo voglio dire, non è quello il problema non ho ricaricato l'altro pump l'altro assalto ma mi faccio bastare questo no, in realtà non mi basta o forse sì perché mi prendo il pump di Oscar sì ovviamente il medaglione ce lo possiamo prendere le armi di queste guardie anche potrei prendere per ora effettivamente ragazzi effettivamente sì perché comunque è verde e in ogni caso il bunker me lo apro il bunker ragazzi nel dubbio lo vado ad aprire allora potrebbe essere uno spreco di lingotti quello che sto per fare quindi preferisco lutarne un bel po' prima di fare qualsiasi cosa che sto per fare appunto ma credo che l'assalto verde lo modifico perché effettivamente ragazzi rischio di non trovare altri fucili d'assalto da utilizzare almeno mi modifico questo e so che ce n'ho uno bello modificato anche se è di rarità verde alla fine raga ve l'ho sempre detto la cosa importante per le armi sono le modifiche prima della rarità ragazzi prima della rarità le cose importanti sono le modifiche già ce n'avevo una buona perché preferisco questa cosa qui e metto anche qua perfetto quindi totalmente potenziato in questo momento ho l'arma verde più forte del gioco i cecchi ah no no sono gli assalti leggendari madonna raga che belle armi che belle armi che mi hanno droppato stavolta le valigette che non posso utilizzare purtroppo ok allora sbrighiamoci ad andare da snake così almeno posso prendermi il suo cecchino e poi iniziamo a giocare devo dire raga che in realtà la fine della fiera per come me la sono giostrata devo dire che ci siamo fatti un loot pazzesco ora a parte magari l'assalto che dobbiamo accontentarci di quello verde e a parte il cecco che dobbiamo accontentarci di quello blu e non lo possiamo potenziare però lo possiamo modificare non è che mi posso lamentare ok la safe anche qui vicina noi abbiamo un minutino per uccidere per andare da snake ucciderlo e tornare ma non credo sia un problema snake di solito il cecchino c'è la colmirino che non mi piace però come vi stavo spiegando poco fa lo possiamo comunque modificare allora è ancora qui in realtà snake ah è uscito proprio dalla tempesta ciao bro ciao bro eh raga eh doveva andare così doveva andare così per povero snake che mirino c'ha no vabbè andiamogli a mettere quello che piace a me bello bello zoomato oddio lì c'è un lama lì c'è un lama ragazzi sapete che quasi quasi sapete che quasi quasi ci faccio un pensierino più che altro per i colpi cecchino che io con la mia solita sfiga non non riesco a trovarne quindi devo andare a prendere lama e poi vado verso il bunker fatemi pensare cioè fatemi sapere se vi viene in mente qualche altro giro di loot che avrei potuto fare per fare questa challenge ora io sono stato anche molto fortunato che nessun team è venuto da oscar molto strano perché in no build di solito è molto contestato quindi sono stato molto fortunato regà eh cioè se non dovessi vincere sta partita e ce ne mettiamo a fare delle altre potrebbe non andare così bene io ve lo dico potremmo essere particolarmente sfigati però fatemi sapere se vi viene in mente qualche altro tipo di giro che avrei potuto fare con altri NPC che magari danno delle buone armi ripeto non valgono ovviamente le armi acquistate soltanto quando uccidete un NPC quindi per esempio non potete andare dall'NPC e comprare che vende magari una buona arma però se magari sapete c'è qualche NPC che una volta che lo killate vi lascia una buona arma fatemelo sapere nei commenti raga mi ha segnato qualcosa eh mi ha segnato qualcosa qui come se ci fosse qualcuno quindi dobbiamo stare attenti dobbiamo stare molto attenti allora io comunque lo potenzio di tutto cioè gli metto tutto quello che può avere ovviamente no io aumento la capacità al cecco e facciamo così abbiamo speso ripeto una marea di lingotti però almeno così abbiamo un loot veramente assurdo bene possiamo iniziare a killare finalmente si ravviva un attimino il video lo sapete che queste challenge iniziano sempre un po' in maniera lenta tra virgolette ricordiamoci che ci abbiamo il medaglione tra l'altro stavo sottovalutando questa cosa sono in solo versus squad e ho un medaglione quindi la gente sa dove sono e non ho movement perché al posto di due impulsi ho preferito per ora tenere i bunkatili però raga se trovo un rampino lo vi oh l'ho chiamato eh raga i bunkatini squad sono importanti ma forse non quanto un rampino e una cura me la devo portare per forza quindi tentiamo così dai diciamo che di questo passo no non posso andarmi a prendere l'assalto di nisha però potevo venirmi a prendere la mitraglietta di valeria potrebbe essere un'idea prendere la mitraglietta di valeria certo ormai ho potenziato di brutto questo assalto mi dispiace quasi lasciarlo ma raga la mappa è vuota siamo ancora in 45 ma non è possibile non sto beccando nessuno i medaglioni quasi sono sfidati gli altri c'è quello di peter lì da nisha non sto capendo che cosa stanno facendo i team che hanno il medaglione ma gli altri dove sono esattamente vabbè ma stava proprio ferma la quale ah vabbè oddio vabbè si ci sta quando fanno i loro movimenti un po' particolari allora oh ciao vale sto lisciando madonna che lisci che sto facendo allora valeria se vuoi vieni verso di qua perché lì c'è la torretta e vorrei evitarla sinceramente la torretta ah io vi dico un'altra cosa non è entrato l'headshot e e vabbè e vabbè allora fermi tutti oh ma perché non mi stanno seguendo raga perché non mi stanno seguendo perché valeria non sta venendo verso di qua ok ok quasi andata giù è quasi mamma mia comunque questo assalto messo così questo assalto messo così preciso modificato in questo modo è tanta tanta roba raga però eh sì vabbè certo valeria adesso inizia ad uscire da lì adesso che è arrivato l'altro team ah boni un attimo però no eh però valeria sta venendo verso di qua ok eh me l'hanno uccisa me l'hanno uccisa loro allora in realtà potrebbero fare da bro 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 non sparare a me spara all'altro team eh capirai gli sto semplificando la vita all'altro team io gli sto uccidendo io e così ok no raga pensavo fosse un headshot ok quella a terra la bananita gente a terra non mi sembrano troppo troppo svegli no ce lo scarico il cecco ma mamma mia raga ma sapete che mi dispiace quasi lasciarlo questo assalto mi dispiace quasi lasciarlo questo assalto cioè no raga dai vi giuro ma ve lo tengo lascio la mitra di di valeria qui dai variamo un attimino qui la la situazione premiamo le armi degli scagnozzi ormai questo qui di di oscar l'abbiamo preso ci abbiamo iniziato la partita e va bene così tra l'altro fin adesso non l'abbiamo neanche mai utilizzato però raga dai facciamo che premiamo l'assalto degli scagnozzi che poi attenzione io potrei anche andare dagli scagnozzi della torre della tempesta regà eh io potrei anche sfruttare loro loro danno anche mi saciano l'assalto epico però è l'assalto che non mi piace quindi preferisco quello che ho io adesso nonostante sia verde cioè figuratevi quanto preferisco questo assalto rispetto all'altro ok mi sono un po' rifullati i colpi ma più che altro dell'assalto non ne ho tantissimi non ho capito perché ne ho così pochi allora sento spari in realtà proprio nella zona della torre delle tempeste però ripeto ci vorrei provare anche per vedere che armi hanno ah ma mi sa che stanno fai dando proprio con quelli della torre della tempesta ok bello 110 però cioè io sto pushando ma non so se questo è da solo però l'ho visto solo soletto qui oh mio dio si sta curando dietro l'albero regà non l'ho visto meno male che era da solo ma ah non era da solo raga c'ha c'aveva i compagni che gli sono morti qui quindi c'è un altro team no questi sono quelli della tempesta ok e ok va bene e no raga infatti non hanno delle armi incredibili gli altri bianchi questa raga non mi piace questo assalto non mi piace per niente non ce la faccio proprio ad usarlo vi devo dire la verità no raga mi sta pushando il team che ha gli altri medaglioni mi sa stanno venendo verso di qua io devo cercare di mettere la to passi troppi colpi ho sprecato troppi colpi tra l'altro non c'è spugli lo sta curando ciao bro no è l'npc questo no raga non ho non ho gli shield non ce l'ho qui ok 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 non stanno qui tre perfetto meno male che intanto ci pensano i medaglioni a curarmi un po' se no era un disastro e meno male che gliene ho battuto uno rega sto team perché almeno si sono fermati probabilmente per curare il compagno eh però l'avrei dovuto almeno finire c'ho tutto carico sì allora vediamolo in po' sì sì l'hanno rianimato eccolo là eh raga questi sono proprio un team eh allora io qui sono ancora in safe pure a quella dopo quindi che poi siamo ancora 18 eh quindi potrei pensare no in realtà no di qua volevo eh lì proprio dove sono loro raga mi sono un attimino confuso eh quindi io dovrei rimanere per queste montagne qua allora mi prendo queste montagne di qua mi devo fare un attimino gli affari mie raga perché se questi sono un full team è un problema allora intanto ci curiamo sparano anche a destra eh sparano anche a destra quelli mi hanno laserato di brutto prima raga sono stato miracolato qui che cosa stanno combinando ma mi sembrano anche mezzi fuori safe in realtà mamma mia bella sta cecchinata no raga questa volta l'ho lisciato brutta quest'altra molto brutta vabbè in realtà sta partendo la tempesta questi qua dietro devono venire verso di me quindi potrei anche fregarmene un attimino prendiamo l'altezza qua e vediamo quest'altro team che in realtà è quello che mi preoccupa di più eccoli sono loro sono loro sono loro sono loro ma dai come 110 110 però quello era shieldato ma non stanno neanche capendo da dove gli sto sparando raga ma che cosa stanno facendo guarda stanno lì in quattro hanno piazzato una torretta raga hanno piazzato una torretta non stanno capendo nulla ma seriamente prima mi hanno laserato questi ma non ci credo vabbè che li sto ammissando anche brutalmente ora eh raga però mi sparano anche dietro eh no raga allora aspettate un attimo questi no ora l'hanno capito dove sono no 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 non ti arrampicare questo è quello che ho citato prima ok ok va da sopra si no raga questi mi hanno pushato mi hanno pushato mi hanno pushato mi hanno pushato questi oddio spero stiano fedendo con gli altri adesso eh 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 io lo sape dovevo sta attento a quell'altro team questi altri dietro non mi sembrano granché ma anche quelli sotto raga ma che stavano facendo con la torretta cioè non avevano minimamente capito dove gli stessi sparando però raga oh mi stanno laserando non sto capendo allora mi hanno dato una kill ma penso sia quell'altro che avevo atterrato non quelli di questo team io se finisco da solo contro questo team muoio eh cioè perdo palesemente devo tornare assolutamente in safe anche perché quella dopo ok quella dopo è di là e quindi potrei pensare di fare il giro larghissimo da questa parte potrei pensare sì facciamo un giro largo di qua va anche se ci sono gli altri con il medaglione probabilmente mi conviene così è morto uno con la corona no raga no raga no raga questi stanno proprio qua sopra questi hanno presa la residenza qua sopra ma non so se è un altro team ancora no sì 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 è un altro team è un altro team è un altro team è un altro team ok perfetto ma possiamo pensare a corte me lo messo qua sotto ok io lo finisco sì sono qui nel medaglione mi ho fatto alisciarlo dai che sta fermo quello è l'NPC un Solid Snake come non è entrato questo colpo no ma come Solid Snake no no che non è l'NPC per un attimo ho detto mi sembra l'NPC perché ma che sta lì fermo ma è crashato quest'altro vabbè quello è un NPC sì ah raga glielo ho atterrato i due sinceramente ci provo ok ok fatti fuori fatti fuori erano in tre erano ma come l'han gestita male ma boh cioè l'unico che aveva capito qualcosa era Oscar infatti mi aveva pushato sotto adesso sono 4 contro 1 però regà eh sono 4 contro un altro team e mo che gli racconta gli ultimi che sto da solo che è Nisha sì eh ragazzi l'abbiamo premiato macchina sì mega macchina mega team traierdino si vola eh vabbè dove sono gli altri ok che stanno no c'è uno qua non mi devi prendere la macchina quanto l'odio sta cosa che hanno i vetri le macchine non entra il primo proiettile raga non avevano colpi cieco no uno di questi c'ha la cosa c'ha lo scudo eh raga questa è full andata questa è proprio andata con lo scudo da solo la vedo bella difficile uno shieldone me lo faccio anche per 15 di shield tanto non è che ci avrò mai il tempo di farmeli tutti e tre io devo sperare loro a un certo punto si fermino o provino a trollare cioè ci devo proprio sperare su sta cosa perché se no sono fregato ok ok si sono divisi oh no eh però mi tengono sotto controllo dai no raga sto finendo i colpi sto finendo i colpi dell'unica arma che può salvarmi da questa situazione è la torretta questa guarda 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 la torretta guarda la torretta mi ha distrutto prima la torretta no mi è scliccato ma quello lo hanno ributtato cioè l'hanno arrestato palesemente meno male che mi stanno a pushare da soli raga però non è così che si usa lo scudo ma raga ma che stanno venendo a rate no la torretta mamma mia meno male ragazzi mamma mia la torretta mi avrebbe distrutto ecco qual era il team che c'ava la corona ma come l'hanno gestito non l'ho capita sta partita vi dico la verità non l'ho capita dall'inizio alla fine vabbè ragazzi oggi molto facile una lobby abbastanza semplice avevo visto qualche team che aveva la corona e speravo infatti di uccidere qualcuno della corona per fare la vittoria della corona ma evidentemente non era la giornata giusta uno dei team che aveva la corona è proprio l'ultimo che ho ucciso e quindi non ho fatto in tempo a prenderla prima di concludere il game meglio così comunque abbiamo fatto davvero un'ottima partita secondo me soprattutto da un punto di vista del loot cioè quella parte iniziale secondo me ci ha spianato la strada totalmente siamo stati fortunati a non beccare nessuna tana tragotante fatemi sapere appunto nei commenti se avete altri giretti di scagnozzi npc anche mareti npc che vendono le armi che può essere interessante su cui fare magari un video vi ricordo il codice creatore ggyt tutto grande tutto attaccato alle cose oggetti di fortnite iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto consigliatemi altre challenge da fare nei commenti lasciate un bel like per me è tutto ci troviamo dopo con altri bei contenuti sulle tartaruche ninja a dopo ragazzuoli ciao